Quarta notte di violenti scontri in Catalogna dopo la condanna al carcere dei leader indipendentisti ed è sempre Barcellona il teatro degli scontri maggiori. Un gruppo di violenti eretto qui barricate in strada, dato fuoco a Cassonetti e lanciato oggetti contro la polizia. Per tutta la giornata decine di migliaia di persone hanno animato cinque grandi marce partite da diverse città della Catalogna per convergere tutte nel capoluogo. Aumenta di ora in ora il numero delle persone ferite negli scontri della notte, 194 agenti, circa 40 manifestanti, mentre 97 sono gli arrestati tra Barcellona, Lleida, Tarragona e Girona. Dure le accuse del governo spagnolo contro Kim Torra. Vorrei ricordare al presidente Torra, perché credo sia importante farlo, che deve decidere una volta per tutte se è il presidente dei catalani e quindi il massimo rappresentante istituzionale della regione catalana o se vuole essere un attivista. Dal canto suo il governo catalano ha voluto indicare in alcuni violenti infiltrati come responsabili delle violenze. Il presidente Kim Torra, durante un intervento TV all'emittente catalana, ha promesso un nuovo referendum sull'indipendenza entro due anni. Sarà possibile una nuova risoluzione che cerchi di fissare il diritto all'autonomia della Catalogna nel più breve tempo possibile, ha detto. Sto preparando una proposta sulle modalità a breve termine. La proposta sarà discussa dai partiti politici e dalle entità civili e sarà animata da una partecipazione internazionale. Un'agitazione questa accompagnata dall'ultima notte di passione che si inserisce tutta nel clima di sciopero generale in corso.